Maria Lucia Revisore Revisore-Porto Io stavo bene prima di entrare qui, prima di vedere le vostre facce. No, 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 non è che le vostre facce non vanno bene, no, 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 non è che le vostre facce hanno qualcosa di sbagliato, è che le vostre facce mi hanno fatto capire che sono io che ho qualcosa di sbagliato. Io prima ero felice e poi ho visto voi, i miei compagni delle scuole medie. Voi che non ridete mai quando io faccio le battute, mai. Eppure io le trovo divertenti. E voi ridete invece per delle cose assurde, che non mi farebbero ridere neanche se fossi sotto tortura. Ma ci sta, ci sta che noi siamo diversi. Ci sta che abbiamo stili di vita diversi, che abbiamo modi di stare insieme diversi, che abbiamo un umorismo diverso. Ma non è questo il problema. Il problema è che voi mi fate credere che sono io il problema. Voi mi dite che io sono strana. Ve lo si legge in faccia, fate di tutto per farmelo capire. Me lo dite anche se non aprite la bocca. E io che prima stavo bene, che prima ero felice, adesso non sto più bene. Adesso mi sento a disagio. Non faccio neanche più le battute. Non mi faccio più ridere. Non mi piaccio più. Perché questo è uno dei nostri drammi. Quando sei una ragazzina, quando hai 13 anni, tu ti guardi con gli occhi di chi ti giudica. E il peso degli altri, il giudizio degli altri, è fondamentale, è un maccigno. Il problema è che quando sei un adolescente, tu non hai gli anticorpi. Tu non hai quella sicurezza per dire eh, chi se ne frega, questo mi reputa strana. Ma allora, ci starò male un giorno, ci starò male due giorni, mica ci starò male in eterno. No, quegli anticorpi non ce li hai. E io mi vedo tornare a casa da scuola con quel peso sul cuore, quella strana angoscia difficilissima da definire. E proprio per questo impossibile da vincere. Mi vedo aprire il cancello, salire le scale, suonare, aspettare che mia madre o mio padre mi aprano la porta e sentire questo maccigno, questo giudizio. Io, Chiara, Buratti, frequento le scuole medie di Pieve, di Cento, e sono strana. Ma che cosa significa essere strani? Cioè, è una cosa bella, una cosa brutta, una cosa così così? Io me lo sono chiesta per un sacco di anni, quando ero ragazzina. Voglio fare una prova con voi. Provate a chiudere gli occhi con me e a pensare al posto più strano che avete visto nella vostra vita. Riapriteli. Distinto. È un posto bello o un posto brutto? È un posto bello? Parecchi. È un posto brutto? Eh, comunque un 70-30. Richiudete gli occhi. Provate a pensare a quando vi siete sentiti più strani in assoluto nella vostra vita. Riapriteli. È stato un momento bello? Tanti. È stato un momento brutto? Tantissimi. Questo è il problema che se voi aprite il vocabolario alla parola strano o stranezza ci sono una marea di accezioni. Moltissime positive e moltissime negative. Accezioni positive, strano, singolare, originale, sei originale, sei nuovo. Ah, che bizzarro, sorprendente. Indipendente, ma anche incomprensibile, astruso, oscuro, anormale, difforme. E questo a me non ha aiutato negli anni. Jack Nicholson, al suo primo provino, racconta che un casting director gli ha detto bene Jack, sei così strano che non sapremo mai in che modo utilizzarti. e lui racconta che ci rimase malissimo perché lui non si sentiva affatto strano e trovò quel momento molto triste, molto deprimente. Ma subito dopo lo stesso casting director gli disse ma se mai avremo bisogno di te avremo davvero tantissimo bisogno di te. Torniamo indietro alla chiara delle scuole medie. Io avevo in terza media un libro di testo che si chiamava Communication Tasks, un libro di inglese, di grammatica inglese. Se avete tra i 40 e i 50 anni e siete emiliani secondo me ci siete passati. E questo non so se qualcuno ci ha studiato sopra. All'interno di questo libro c'era una ragazzina disegnata, era una caricatura che si chiamava Sue Macduff che faceva un po' da filtro tra noi studenti che non avevamo voglia di studiare e le regole grammaticali quindi insomma quelle un pochino più noiose. era una ragazzina in fumetto diciamo un po' strana. Cioè era bruttina ma non era tanto il discorso fisico aveva gli occhialoni ma era magra magra un po' goffa un po' storta un po' strampalata di noccolata e io mi sono sempre immaginata che se fosse stata un essere vivente sarebbe inciampato da un momento all'altro. Questa era lei e questa ero io quando facevo le scuole medie. Tanto sapete già dove voglio arrivare. Un giorno sono a casa che sto studiando entra mio padre entra mio padre in camera guarda lei guarda me e mi dice ma chi è? Ho detto ah si chiama Sue McDuff così è un personaggio divertente un po' strano. Mi fa guarda che da domani tutti i tuoi compagni ti inizieranno a chiamare Sue McDuff preparati e se n'è andato. E io ci sono rimasta malissimo. Uno perché io non mi vedevo proprio così strana. Due perché ho pensato ma se persino mio padre considera la mia stranezza qualcosa che gli altri avrebbero potuto attaccare allora dovevo iniziare a pensare che la stranezza poteva essere un nemico un nemico da combattere o un bersaglio comunque un nemico da prendere come bersaglio perché comunque la stranezza di per sé ti allontana dal gruppo ti allontana dalla moltitudine dagli altri gli altri difficilmente subito sono pronti ad assecondarla la stranezza soprattutto se tu vivi in un mondo tuo in una bolla tutta tua piena di sogni infiniti magari ci stai pure bene e beh ma si mette in atto un meccanismo da parte degli altri per cui è molto più facile additarti come strana piuttosto che farsi domande farti domande mettersi in discussione poi per fortuna dopo qualche anno io sono inciampata in una cosa molto bella nel teatro e ho capito che tutte queste mie stranezze queste mie magari in piccola parte ossessioni queste mie piccole follie potevano incanalarsi in un'unica direzione dare vita a un'energia molto potente sul palco che poi si trasmetteva in un mio linguaggio completamente unico completamente mio che la gente capiva magicamente che alla gente piaceva vi faccio un esempio perché io sto parlando di stranezza di stranezza ma che stranezza allora io ad esempio quando avevo 13 anni andavamo alle feste alle festicciole tra amici quando c'era della musica mi mettevo a ballare e ballavo così no 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 ma non è per cioè era un praticamente un moto ondulatorio ma io credevo di essere sensualissima vi giuro cioè credevo di piacere un casino dicevo dai mi dà più carisma sintomatico mistero questa roba e vedevo che tutti che tutti però ridevano quando io ballavo cioè però a dire il vero voi negli anni 80 cioè ballavate così eh dai dite la verità quindi adesso ci pensiamo adesso non so cosa sia meglio eh però ci vuole del tempo beh insomma tutti ridevano io non capivo però tornando al discorso del teatro tutte queste mie stranezze in qualche modo per rappresentare i miei personaggi diventavano un bagaglio fichissimo un bagaglio bellissimo che avevo a disposizione ho una stranezza di qua eh vabbè ma c'ho questo personaggio la metto lì eh vabbè la metto lì e quindi creavo comunque dei personaggi che in qualche modo erano originali erano miei erano unici e questa cosa negli anni mi ha dato molta molta sicurezza ma non tanto perché piacevano alla gente ma perché io mi sentivo libera quando preparavo questi personaggi ci stavo bene mi sentivo completamente assente del giudizio altrui e quindi ci stavo benissimo e io sicuramente nel teatro eh stavo ma ci sto ancora sto so almeno di stare nel posto giusto il teatro in qualche modo mi ha salvata diciamo così eh non so credo che anche voi siete stati salvati nei vostri momenti traballanti da qualcosa credo che ne abbiate avuto uno nella vita almeno di un momento di crisi in bilico per me è stato il teatro magari per voi è stata la musica lo yoga un libro un viaggio un amico un piatto di tortellini una sera devastante un la scienza a proposito di scienza nella fisica c'è una legge che si chiama legge di conservazione della stranezza e dice la stranezza è stata introdotta per spiegare il fatto che certe particelle sono sempre prodotte a coppie in queste reazioni si assume che una certa proprietà chiamata appunto stranezza è conservata io non credo che la stranezza di cui parlano i fisici sia la stessa stranezza di cui stiamo parlando adesso però mi piace pensare che anche i fisici abbiano una grande fantasia e trovino nell'immaginazione anche delle parole giuste per le loro scoperte per le loro reazioni e lo trovo molto bello e penso che sarebbe bellissimo anche che noi nella nostra società nel nostro vivere ogni giorno avessimo la nostra legge di conservazione della stranezza preserviamo la stranezza perché la stranezza è il modo più veloce di essere me di essere te è il modo più vero di dimostrare chi siamo senza condizionamenti senza paure chissà forse la parte più strana di noi è la parte più autentica e tornando al discorso iniziale a tutte queste mille definizioni che vengono date alla parola stranezza beh ci sono delle parole proprio come stranezza che sono dei recipienti sta a noi riempire queste parole con il significato giusto e allora che cos'è la stranezza diciamo cosa non è non è per forza un dono cioè non è obbligatoriamente un dono non è qualcosa che bisogna ricercare per forza però non è assolutamente nemmeno una dannazione non è qualcosa da cui bisogna guarire non è qualcosa da cui bisogna fuggire forse semplicemente la stranezza è uno strumento un'occasione che abbiamo e che ci viene data e sta a noi tocca a noi decidere se trasformarla in paura in condizionamento o in pura assoluta e unica bellezza grazie grazie a tutti grazie a tutti